Il segno del Sagittario Sì, il segno del Sagittario che vivrà una giornata molto intensa, bella, perché voi vi sentite in forma vi sentite carichi al punto giusto e nel questo giorno in cui la Luna è meravigliosa, vicina ad Urano, nel punto più bello del vostro oroscopo novità che hanno a che fare con i sentimenti, viaggi davvero spettacolari per quanto mi riguarda e lavoro che può darvi delle ottime soddisfazioni è un periodo questo particolarmente ricco per quanto mi riguarda anzi, vi dirò che per il lavoro bisognerà sfruttare fino in fondo questo transito di Mercurio che non sarà il leone ancora a Luno allora questi ultimi giorni con Mercurio in questa posizione vanno sfruttati al massimo se avete delle idee da proporre fatelo, soprattutto in questa giornata se avete un progetto da parare, questo è il momento più opportuno non potete aspettare, non dovete temporeggiare, è arrivato il momento di agire andiamo a...